Salve, abbiamo oggi una domanda sul Signore Risorto, la domanda dice così, la risurrezione di Gesù è un fatto storico? Certamente questa è una domanda di qualcuno che ha letto o studia teologia, perché ci sono molti teologi che dicono che la risurrezione di Gesù non è un fatto storico, dicono che è un fatto metastorico, un fatto importantissimo, ma non avviene nella storia. E questo si capisce perché lo dicono, perché la risurrezione non può essere ridotta al fatto materiale di un cadavere che si rianima, non è questo. E' la trasformazione totale della persona di Gesù, spiritualizzata anche nel suo corpo. Però dire che non è un fatto storico è pericoloso, sembra che non sia un fatto reale, che non sia un fatto accaduto. Allora per questo è meglio evitare di dire questo, e io non sono d'accordo con questa. Anche se leggete Gesù di Nazareth, di Ratzinger, dice questo, attenzione, no? Certamente è troppo riduttivo dire che non è un fatto storico. Non è solo un fatto storico. I Vangeli sono molto chiari su questo punto. Si può discutere all'infinito, ma i Vangeli dicono questo, che la risurrezione è storica. Dice così, che le donne quando vanno al sepolcro, cosa trovano? Trovano il sepolcro vuoto, non c'è più niente dentro. Maria di Magdal e l'altra Maria andarono a visitare la tomba, ed eccovi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra, si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne, voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocefisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. E' vuoto, il sepolcro è vuoto. Nella storia è successo questo, che questo cadavere è stato trasformato e il sepolcro è rimasto vuoto, in un momento imprecisato della notte, ma in un momento storico. Cioè, la risurrezione inizia nella storia, è un fatto, è un evento. Però non è un semplice fatto storico come gli altri. Gesù risorto si manifesta alle donne, ma succede anche un'altra cosa. Mentre esse erano in cammino per andare dagli apostoli, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Accaduto. È successo un fatto. Pure le guardie sono state travolte. Allora i sacerdoti si riuniscono e dopo averli consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo «Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo». E loro fecero così. E molti non credettero alla risurrezione di Gesù, pur essendo iniziato come un fatto. Perché? Perché Gesù non si manifesta a tutti, risorto. Gesù si manifesta a chi vuole e anche a chi si manifesta Gesù chiede la fede. Allora non è un semplice fatto storico, è un fatto che supera la storia. Perché è il punto di contatto tra questa storia umana e l'eternità di Dio. Il suo mondo di misericordia, di luce e di amore che supera il tempo, che supera tutto. Però avviene nella storia, inizia nella storia. È come nella nostra vita, no? Tutta la rivelazione di Dio è storica. Dai tempi di Abramo, tutto avviene a misura d'uomo. Ma è anche la risurrezione, avviene a misura d'uomo. Però prende l'uomo e lo porta in un'altezza meravigliosa. Come nella nostra vita? Il Signore entra nei fatti concreti della nostra vita. Una crisi, un problema, un senso di solitudine. E come ci soccorre? Attraverso eventi storici il Signore ci comunica una vita che non è storica, è eterna. Che è molto superiore. E così è la risurrezione di Gesù. È realissima, concreta, storica, cronologica. C'è un giorno, una notte in cui è avvenuta. Però ci porta, ci apre il cuore all'eternità di Dio. Ti benedica il Signore e ti protegga. Grazie. 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 Grazie.